Fino al prossimo 13 settembre, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Oscar Ghiglia gli anni di Novecento, che permette di conoscere e apprezzare questo grande artista nato a Livorno e legato alla Toscana, ma anche fortemente influenzato dalle correnti europee del suo tempo. Un evento che prevede tante proposte e agevolazioni dedicate ai soci Coop. Il visitatore in questa mostra ha l'opportunità di conoscere un grandissimo autore del XX secolo, che per una serie di ragioni sfortunate è poco noto al grande pubblico, ma che offrirà sicuramente l'opportunità di apprezzare dipinti, nature morte, figure di una qualità altissima. È veramente l'opportunità per conoscere e per vedere dal vivo opere che altrimenti non si vedrebbero, perché sono custodite all'interno delle case private. A cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri, la mostra è promossa dalla città metropolitana di Firenze e organizzata dal Muse, in collaborazione con l'Istituto Matteucci di Viareggio. Tante le opportunità riservate ai soci Unicop Firenze, a partire dalle visite gratuite il 24 aprile, 8 e 2 maggio, 12 e 26 giugno, per proseguire a domeniche alterne fino all'11 settembre, sempre alle 16 e 30. Il tutto in un percorso ideale che lega Palazzo Medici Riccardi alle esposizioni in corso al Museo Novecento. Una sottile linea lega un autore del Novecento storico, Filippo De Pisis, con Giulio Paolini e con un artista contemporaneo che è Luca Vitone. Il Museo Novecento offre l'opportunità di scoprire questi tre artisti di tre generazioni diverse e di indagare i legami che sottendono il loro rapporto. Anche in questo caso non mancano le proposte dedicate ai soci Unicop Firenze. Ci sono delle iniziative particolari dedicate ai soci Coop tutti i sabati. Alle 15 c'è una visita guidata dedicata ai giovani e agli adulti, che è proprio un viaggio nell'arte contemporanea del Novecento, mentre alle 14 e mezza, tutti i sabati, c'è un atelier di pittura dedicato alla famiglia e ai bambini, arte come illusione. I soci Coop godranno poi dell'offerta due per uno, quindi due visitatori entreranno al prezzo di uno e ci saranno delle giornate che sono consultabili sul sito Muse, dove i soci Coop entreranno gratuitamente. Per le varie iniziative riservate ai soci Coop è necessaria la prenotazione.